Gigi De Palo, è la volta buona che questo assegno possa arrivare nelle tasche delle famiglie italiane? Deve essere la volta buona, se no finisce tutto, nel senso che le famiglie non so quanto riusciranno a sopportare, non tanto un lockdown, quanto anni in cui sono state totalmente dimenticate dal punto di vista politico, perché il loro dovere l'hanno fatto sempre, l'ammortizzatore sociale che sono lo hanno sempre fatto, si sono prese sulle spalle in questo lockdown tante responsabilità e se le cose in Italia sono andate meglio rispetto ad altre zone del mondo, lo dobbiamo alle famiglie, ecco, in più adesso ci sono stati 100 miliardi di vari decreti, 209 miliardi per quanto riguarda Recovery Fund che non ce li dà all'Europa, sono presi in prestito dai nostri figli, ecco, se nemmeno c'è un'attenzione in questo senso per le famiglie con l'assegno unico, beh, allora forse è il caso di andare tutti a casa se non ci mettono a breve, ecco. Corrado Chiominto, questo assegno potrebbe arrivare nelle tasche di tutti al di là del reddito, tu hai capito bene? Sì, sarà un assegno, allora è veramente questa è una piccola rivoluzione perché sarà un assegno universale che arriverà anche agli incapienti, almeno questo oggi ci hanno spiegato, che arriverà anche agli autonomi, quindi è una riforma vera, ho visto oggi dei calcoli sul Sole 24 Ore che parla di un assegno che può andare da un minimo di 50 a 200-250 euro a famiglia, potete immaginare che non è un, insomma, i rinnovi contrattuali oggi vanno raramente sopra i 100 euro, quindi dare invece mensilmente 200 euro in più a famiglia, insomma, avrà il suo impatto reale. E questo sarà il primo passo della riforma fiscale che ci promettono, arriverà nel 2022, ora con la riforma dell'IRPEF che è, come si può dire, la regina delle nostre tasse. Gigi De Palo, secondo lei questo assegno, proprio per dare una speranza, lei non governa, però insomma è stato uno dei vogatori per questo risultato, secondo lei questo assegno quando potrebbe entrare nelle tasche delle mamme e dei papà? No, no, c'è già una data, abbiamo parlato con la Ministra e non solo con la Ministra, dal primo luglio. Noi abbiamo e spingiamo e spingeremo e suderemo la maglietta e romperemo le scatole come sempre affinché sia. Prima, magari possa essere anche retroattivo perché le famiglie stanno in grande difficoltà e aggiungo io affinché ci siano più risorse perché è vero che 6 miliardi non sono pochi ma secondo non i nostri dati, quelli dell'ufficio studi della Camera per quanto riguarda il bilancio servivano qualche risorsa in più, però dal primo luglio è ufficiale che ci sarà per poi avere una riforma che è vita natural durante, cioè non è una di quelle situazioni bonus che poi cambia il governo e vengono tolti.